Ho aspettato un po' prima di rispondere. Ho preferito mettere in fila i fatti, i documenti, raccogliere le polemiche e poi intervenire con questo video e con un articolo su giornalettismo dove pubblico tutti i documenti linkati. È un tema molto sensibile, è un tema molto complesso, però io qui ci tengo a dire una cosa. Non si tratta della bontà dei vaccini. Io ho sempre detto che i vaccini sono l'intervento in campo medico più importante dopo la potabilizzazione dell'acqua, lo dice lo stesso Piano Nazionale Vaccini. Qui si tratta di un'altra cosa, della politica sanitaria legata ai vaccini e dei possibili conflitti di interesse del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, che ha firmato il Piano Nazionale Vaccini e che, come lui stesso spesso rivendica, ha partecipato alla legge che ha reso obbligatori 10 vaccini in Italia. Nel mio libro inchiesta Vaccinazione, sul fatto quotidiano che ne ha pubblicato un estratto, racconto che Walter Ricciardi ha fatto da consulente per diverse case farmaceutiche su 15 prodotti fra vaccini e farmaci dal 2007 al 2012. È scritto nero su bianco sulle dichiarazioni di interesse che Walter Ricciardi ha pubblicato alla Commissione Europea negli anni 2013, 2014 e 2016. Salta soprattutto agli occhi la consulenza che Walter Ricciardi ha fatto per la Novartis nel 2012 sul vaccino contro il meningococco B, vaccino che è stato poi inserito nel Piano Nazionale Vaccini firmato dallo stesso Walter Ricciardi che era capo dell'Istituto Superiore di Sanità, nonostante tutte le criticità espresse proprio dall'Istituto Superiore di Sanità che era stato chiamato a dare il suo parere nel 2014 dal Ministero della Salute. Il fatto quotidiano il giorno prima di pubblicare l'estratto del mio libro contatta Walter Ricciardi per chiedergli conto rispetto alle consulenze date alle case farmaceutiche su quei vaccini. Le domande che il fatto quotidiano fa a Walter Ricciardi sono quelle collaborazioni con le multinazionali che si occupano di vaccini rappresentano un conflitto di interessi per chi poi scrive il Piano Vaccinale? Che ordine di grandezza avevano le remunerazioni per il contributo? Walter Ricciardi risponde posso confermarle che ho da sempre impostato e condotto le mie attività didattiche scientifiche professionali nel segno del massimo rigore e della più completa trasparenza e accountability. Il giorno dopo Walter Ricciardi rilascia un'intervista al Foglio dove conferma le sue consulenze alle case farmaceutiche e dice quelle sono valutazioni che ho fatto molti anni fa come scienziato. Il giornalista gli dice nell'elenco pubblicato dalle innocenze però ci sono 15 valutazioni e sono tutte solo su vaccini. Walter Ricciardi risponde ma questa è una colossale sciocchezza una balla. La mattina stessa dell'uscita del fatto quotidiano Roberto Burioni dalla sua pagina facebook difende cito testuale l'amico e collega Walter Ricciardi e mi attacca per aver confuso i vaccini con i farmaci. Quello che ho fatto è semplicemente aver ripreso senza correggere il documento ufficiale di Walter Ricciardi dove lui stesso a definire come vaccini tutti e 15 i prodotti come potete vedere appunto dalla lista e lo fa sia nella dichiarazione di interessi del 2013 e sia esattamente tale quale nel 2014. Il passaggio sottolineato da Burioni che verrà ovviamente chiarito e corretto nelle edizioni successive del mio libro dove spiegherò appunto che di questi 15 prodotti 6 sono vaccini e il resto non lo sono non deve però distogliere l'attenzione dalla questione principale che è i conflitti di interesse invece Roberto Burioni insiste e non dice una parola sulla questione dei conflitti di interesse anzi mette in discussione la veridicità della dichiarazione di interessi di Walter Ricciardi lo fa con questo commento sulla sua pagina facebook dove scrive che Ricciardi l'abbia scritto rispetto alla dichiarazione di interessi è da dimostrare e dubito che l'abbia scritto un link a un documento senza firma non dice nulla è una bozza è un errore di qualcuno viene da Ricciardi e conclude se Ricciardi avesse scritto che ne vi volò un vaccino meriterebbe le pernacchie come le meriterei io lasciamo le battute ad altri e atteniamoci ai fatti come può Roberto Burioni spingersi fino a mettere in discussione la veridicità di documenti ufficiali depositati alla commissione europea Walter Ricciardi non risponde sul perché ci siano dei medicinali presentati come vaccini in ben due sue dichiarazioni di interessi presentate alla commissione europea detto questo la domanda rimane sempre la stessa è opportuno che chi ha preso dei compensi dalle case farmaceutiche per valutare dei loro prodotti in particolare i vaccini sia poi chiamato ad esprimersi sull'inserimento di alcuni di quei vaccini nel piano nazionale vaccini l'organizzazione mondiale della sanità pubblicato un decalogo per individuare i conflitti di interesse l'ho linkato sull'articolo di giornalettismo e qui vi leggo proprio cosa dice l'oms rispetto a un conflitto di interessi che va valutato attraverso gli occhi dell'ipotetica persona ragionevole della strada se una persona ben informata può ragionevolmente concludere che il lavoro sia stato contaminato o è ingiusto o è influenzato dagli interessi dell'esperto nell'esito dei lavori allora la partecipazione dell'esperto deve essere esclusa o limitata e l'organizzazione mondiale della sanità fa anche degli esempi concreti di conflitti di interesse cita proprio un introito marginale ricevuto per una consulenza per l'azienda x e il periodo di riferimento è di quattro anni la domanda è sempre la stessa possiamo escludere il conflitto di interessi oltre ogni ragionevole dubbio per Walter Ricciardi un ps e in italia il presidente dell'istituto superiore di sanità non ha l'obbligo di pubblicare la sua dichiarazione di interessi sul sito dell'istituto superiore di sanità però è presente il curriculum di Walter Ricciardi che ho controllato e le sue consulenze per le case farmaceutiche non ci sono